Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco quale sarebbe il piano di 10 punti per contrastare l'immigrazione illegale in arrivo in Italia. A Lampedusa von der Leyen annuncia una svolta politica e fattuale. 10 punti. Non si lascia sola l'Italia. Va bene. Con le parole e con i fatti. Ma vediamo quali sarebbero questi fatti. Meloni e von der Leyen dicono che chi entra in Europa lo decidiamo noi. In effetti non l'hanno mai deciso, sono entrati centinaia di migliaia di clandestini, però da ora in poi lo decidiamo noi? Beh insomma, se fosse vero. Intanto gli sbarchi sono più che raddoppiati. La Meloni assicura che la sua risposta sta arrivando sotto forma di migranti bloccati prima di partire o rimpatriati in modo massiccio. Perché non crede questo governo italiano alla redistribuzione degli arrivi tra i partner europei. Questo l'abbiamo sempre detto. Non esiste nessuna redistribuzione, non esisterà mai. Oggi quella che c'è è solo su piano volontario. Quindi lasciamo stare queste redistribuzioni perché è tempo perso. Bisogna fermare le partenze. Fermare le partenze vuol dire un blocco navale. E' sempre lì andiamo a finire. Solo che il tempo passa e l'invasione aumenta. Quindi la Meloni vuole dimostrare che gli attacchi alla sua linea sull'immigrazione non sono fondati. Non solo e non tanto quelli delle opposizioni che la accusano. Conte dice chieda scusa, Calenda parla di spot elettorale. E' l'alleato Matteo Salvini che adesso sta cercando di fare la rincorsa alla Meloni per poter sorpassarla magari e diventare magari lui il candidato premier. Perché l'ospitata di Marine Le Pen sembrava proprio in un tono anti-Meloni. Beh, il primo punto. Vediamo sti dieci punti. Primo punto sostegno concreto all'Italia. Che cosa vuol dire? Inviare rapidamente assistenza operativa ai paesi della UE che devono far fronte alla pressione migratoria. Ma finora ha fatto parlare poco di sé l'Agenzia Europea per l'asilo Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera per assistere gli stati membri dell'Unione Europea e i paesi associati Schengen nella protezione delle frontiere esterne. Si muoveranno per affrontare la crisi nell'immediatezza. Le due agenzie in particolare possono contribuire a gestire l'elevato numero di migranti aiutando per esempio a registrare gli arrivi e a rilevare le impronte digitali. Ok, il punto 1 non serve per fermare gli arrivi o le partenze. Andiamo a vedere il punto 2. Più trasferimenti in altri paesi dell'Unione Europea. Aumenterà il sostegno per trasferire i migranti fuori da Lampedusa? E chiediamo agli altri stati membri di essere solidari. Il meccanismo volontario di solidarietà. Questa è roba vecchia, lo faceva solo Francia e Germania in maniera volontaria. Vabbè, dobbiamo sentire sempre le solite fesserie. Vabbè, il punto 2 lasciamo perdere. Punto 3. Quindi il punto 2 non serve per fermare le partenze e per fermare gli arrivi. Punto 3. Rimpatri più facili. Chi non ha diritto all'asilo non può rimanere nell'Unione Europea. Ci rivolgeremo ai paesi di origine per facilitare questo processo. Invierò il vicepresidente della Commissione a negoziare e a parlare con i paesi di origine. Beh, fare degli accordi per i rimpatri. Vabbè, può servire a qualcosa anche se non ci credo a questo punto. Punto 4. Più sforzi contro i trafficanti. Un altro impegno che riecheggia. Dopo le parole di Meloni andremo a cercare gli scafisti in tutto il mondo. Più sforzi contro i trafficanti. Anche questo punto è abbastanza fumoso. Punto 5. Più sorveglianza navale e aerea. Possiamo farlo attraverso Frontex. Inoltre sono favorevole a istendere le missioni esistenti e se necessario lavorare su nuove. Sorveglianza navale non vuol dire blocco navale. Sorveglianza navale non vuol dire anche nulla, non vuol dire niente. Disstruzione dei barchini. Ma i barchini arrivano già distrutti, comunque. Lavoreremo con le autorità italiane per garantire la rimozione e la distruzione delle barche e dei gommoni recuperati. Questo ferma le partenze. Ma non scherziamo, dai. 7. Accelerare le procedure. L'Agenzia Europea per l'asilo è pronta a migliorare il sostegno dato all'Italia per accelerare le procedure per le richieste di asilo? Serve a qualcosa? A fermare le partenze e gli arrivi? Assolutamente no. Rafforzare i percorsi legali. Flussi regolarizzati e corridoi umanitari. Allora, questa invece è una bugia. I percorsi legali non sono nient'altro che la legalizzazione di quelli che sono già arrivati in Italia. Quindi si parla praticamente di una sorta di condono, una sorta di legalizzazione di quelli che sono già entrati in Italia. Quindi i percorsi legali sono legalizzare quelli che sono entrati in maniera illegale. Non serve a fermare né le partenze né gli arrivi. Punto 9. Più cooperazione con l'ONU. Si tratta di coinvolgere maggiormente le agenzie del sistema delle Nazioni Unite per intensificare la cooperazione sui rimpatri volontari. Anche questo punto è a ria fritta. Punto 10. Attuare l'accordo con la Tunisia. Un lavoro con la Tunisia per l'attuazione del memorandum e dunque accelereremo l'aggiudicazione di nuovi progetti e le erogazioni di fondi alla Tunisia. Abbiamo visto che la Tunisia prende i soldi e se ne frega. Quindi anche il punto 10 molto fumoso e non serve assolutamente a nulla. Quindi il piano europeo sui rimpatri è una tavanata galattica. Nel senso che nessuno vuole in Europa fermare le partenze. Questa è la realtà. Quindi il piano in 10 punti dell'Europa è fuffa. È fuffa. Arrivederci a tutti e grazie.